L'evoluzione dell'attività notarile nell'evoluzione del diritto societario. Si rinnova a Catanzaro l'appuntamento annuale dei notai calabresi, chiamati a nuove sfide di fronte ad un ordinamento che subisce sensibili modifiche. Ci sono una serie di sfide che nel tempo si sono susseguite. Adesso si parla tanto di queste start-up innovative senza intervento notarile, si parlerà delle semplificate, delle società semplificate, e un po' delle novità non solo legislative ma anche di prassi applicativa come quelle sulle trasformazioni eterogene e quant'altro che hanno visto notai e commercialisti in prima linea nella prima applicazione della normativa. Ma la semplificazione delle norme renderà più semplice l'avvio di un'impresa? Si va verso una semplificazione anche della normativa, che questo poi concida con un'effettiva semplificazione nella gestione della quotidianità. Speriamo che avvenga anche questa. Speriamo che avvenga anche questa.